Settantottesimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei pesci. La chiesa ricorda San Salvatore e San Cirillo. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Salvatore. Il nome ha origine latina, tradotto dall'ebraico, e significa Dio e salvezza. Salvatore è una persona lì già al lavoro con le idee molto chiare. È particolarmente legato alla propria famiglia. Accadde oggi. Il 18 marzo del 1964 viene aperto al traffico il traforo del Gran San Bernardo. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 18 marzo ricordiamo il ciclista Costante Girardengo e il cantante Bobby Solo. La citazione del giorno. Non vi è nulla di così assurdo che l'abitudine non renda accettabile. Erasmo da Rotterdam. Dice il saggio. Se l'opportunità non bussa, costruisciti una porta. Il bel paese. L'albergo di Urno Venezia è stato per diverso tempo il salotto di Milano, un simbolo di eleganza ed accoglienza. In piazza Oberd, a metà della scalinata per accedere alla metropolitana, si trova una porticina che, attraversandola, ci porta direttamente negli anni venti. Costruito sottoterra tra il 1923 e il 1925, era aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 23 e al suo interno vi si trovavano le terme, negozi di barbieri, manicure e tutto quello che poteva concedere a viaggiatori e cittadini momenti di riposo e relax. Oggi è ancora tutto intatto, come se il tempo si fosse fermato agli anni ruggenti. Attualmente ospita visite periodiche curate dalla delegazione FAI che lo ha in gestione. Grazie a tutti.